Ciao a tutti e benvenuti. Il Giro dei Giornali ha fatto molto rumore questa frase di Stefano Pioli il nostro ciclo è appena iniziato. Ho visto anche reazioni umorali dei tifosi avversari sui social la lama che arroganza ma cosa vuol dire ma ha vinto solo uno scudetto eccetera eccetera. No Pioli non ha vinto solo uno scudetto mi spiace. Spiacente. Quando Pioli dice il nostro ciclo è appena iniziato parla di competitività della squadra e il Milan sono due anni e mezzo che è competitivo perché il Milan ha fatto 30 punti in 12 parite dopo il lockdown, ha fatto 79 punti nel 2021 ed è tornato in Champions League ha fatto 86 punti nel 2021-2022 ed è tornato a vincere lo scudetto. Quindi Stefano Pioli parla di polpa, di sostanza non fa teatro e lui è convinto che il Milan sarà competitivo anche la prossima stagione. Il Milan vincerà qualcosa vincerà tutto, non vincerà niente, non lo possiamo sapere ma il dovere di un grande club è essere sempre competitivo. La critica che fanno i tifosi della Juventus agli ultimi due anni della Juventus è di non essere mai entrata nella lotta a scudetto seriamente e noi lo sappiamo questo perché noi siamo stati tanti anni spettatori di qualcosa di importante. Noi dopo il secondo posto del 2012 e il terzo posto del 2013 in cui la nostra lotta era il terzo posto, mai lo scudetto, fino diciamo a metà della stagione 2021 non eravamo mai entrati in nessun discorso scudetto, mai. Sette, otto anni sono tanti e quindi Stefano Pioli dice semplicemente, una gazzetta un po' forzata, il Milan sogna e il bis, Stefano Pioli non parla necessariamente di scudetto, Stefano Pioli dice, sottolinea, che non bisogna aspettarsi passi indietro da questo gruppo, semmai passi in avanti, sul piano dello spirito, sul piano dell'identità di gioco, sul piano della competitività. Quando Stefano Pioli racconta che magari qualche tifoso può spaventarsi perché quando Stefano Pioli racconta non ci mettevano mai nei pronostici e io ho detto alla squadra, ma perché nessuno ci indica come possibili vincitori dello scudetto, vogliamo farglielo vedere o no che sbagliano i pronostici. E allora qualche tifoso potrebbe dire, siccome quest'anno non ci danno più sesti settimi nonostante i miei sforzi di cercare che questo accada, allora che cosa dirà Stefano Pioli alla squadra? Tranquilli, che un modo per stimolare la squadra, un modo per essere adulto e per parlare di obiettivi con la squadra il nostro allenatore lo trova sempre. Sempre oggi sulla gazzetta trovavo l'interessante spunto di Luigi Garlando sul nostro centrocampo. Dice il giornalista e scrittore Pioli lo sa che di fianco a Tonali manca qualcosa senza che sì. Vero, però è vero, è un'osservazione che ci sta tutta. Però che sì Tonali non sono mai stati coppia, si sono divisi un po' di funzioni, non hanno mai giocato sulla stessa linea. Ricordo a Verona, ad esempio Verona Minan, quella che doveva essere, secondo qualche Cassandra, la chiamiamo così, la parita della fatta al Verona, che sì molto dietro, Tonali molto avanti. Tonali ha fatto molto del lavoro fisico, che ha fatto che sì nel 2021, lo ha fatto Tonali nel 2021-2022, perché se è vero che durante il 2021-2022 spesso si diceva che la vicenda contrattuale sta distraendo, che sì, i critici, gli opinionisti si sono accorti del fatto che Frank non è riuscito a ripetere nel 2021-2022, per tanti motivi, la grandissima stagione del 2021. Ha fatto alla fine una buona stagione, nelle ultime partite decisive per lo Scudetto, che sì ha fatto il suo, lo ha fatto bene. Però, diciamo che il tema Milan, semmai, è trovare un centrocampista simile al che sì del 2021, piuttosto che al che sì del 2021-2022. Penso che su questo possiamo essere d'accordo. E non è semplice, perché il Milan è arrivato al che sì del 2021 dopo altre tre stagioni di che sì, dove la considerazione attorno a lui era di varia umanità. Io ricordo nel gennaio del 2020 si vociferava a Milano di un possibile scambio che sì-Vecino, e i tifosi interisti erano contrari, ritenevano Vecino più forte di che sì. Quindi il calcio viene e va, ragazzi. Ora, in Soldoni, ci sarà la possibilità, l'opportunità di fare qualcosa in concreto a centrocampo? Il Milan lo farà, però teniamo conto che il Milan fino ad oggi i suoi investimenti li ha fatti, perché il Milan non ha preso soltanto Charles de Quetlar, ma ha riscattato Florenzi e Messias. Voi dite, che se ne frega, c'erano già. E sono soldi anche quelli. Dovesse arrivare il talento del Vicenza, Tommaso Mancini, sarebbero soldi anche quelli. Per cui bisogna fare un po' di conti. Paolo Maldini e Ricchi Massara devono fare un po' di conti. E li sanno fare, li hanno sempre fatti, lo dichiarava anche Paolo Maldini nell'intervista alla Gazzetta di fine maggio, quando posso il club lo faccio risparmiare. Quindi adesso bisogna vedere quali saranno le opportunità. Trovare subito pronto un nuovo che sì non è semplice. Non è semplice. Per il momento, per l'inizio stagione, per le prime partite, ci sono Tonari e Ben Nasser, c'è lo stesso Adli che può fare il centrocampista, c'è lo stesso Krunic, c'è Tom Pobega che una mano a livello fisico può darcela. Ecco, un po' defilato ma non me ne voglia. Massimo rispetto e massimo affetto per la stagione 2018-2019, un po' defilato Timu e Bacayu. Che non è mai riuscito ad avere, non tanto, non faccio nessuna critica a Timu sui tocchi di palla, sul... ecco, ma la sensazione è che il suo sia un calcio diverso da quello dei meccanismi e dell'intensità di Pioli. Ecco, questa è la sensazione, per cui non è colpa di nessuno. È un po' così e va bene. Però, per l'inizio stagione, per le prime due partite, Udinese-Atalanta, il Miani, i centrocampisti ce li ha. Poi la stagione sarà lunga e molti di voi si chiedono, chiedono e mi chiedono Renato Sanchez. Renato Sanchez mi sembra insondabile come la cometa di Alley come vicenda. Certo, Mandini-Massano hanno dimostrato, sulla vicenda Bruges, di sapere come si fa a non mollare una presa. Per cui, dovesse esserci un cambiamento, una novità, una svolta, da questo punto di vista, il Milan ci sarà. Il Milan su Bottman ha deciso diversamente, invece mi sembra che su Renato Sanchez ci fossero le condizioni, con la gente, col giocatore, di entrare nel vivo della trattativa. Il Milan è abbastanza pronto. Mi sembra più definita la situazione del difensore. Io penso che alla fine il Milan un difensore lo prenderà. E la chiave, nel leggere sui giornali, credo che dovremmo orientarci anche un po' sulla duttilità del difensore. Credo che, noi abbiamo a destra Florenzi, oltre a Calabria, credo che il Milan andrà alla fine ad orientarsi su un difensore centrale che sappia fare il difensore centrale, ma anche un po', anche un filo all'esterno-sinistro. Però anche lì bisogna vedere l'opportunità. Se ci sarà, io leggevo poco fa Monci di S del Siviglia, che diceva, sì è vero abbiamo venduto Cunde per 62 milioni a Barcellona, ma non è che adesso, siccome abbiamo fatto una grande cessione, andiamo a buttare i soldi per strada. Se c'è l'opportunità di mercato di fare una cosa che ha senso, bene, altrimenti non la facciamo. A maggior ragione noi, che i 62 milioni non li abbiamo incassati per nessuno, che stiamo facendo il mercato con i nostri ricavi da qualificazione Champions e primo posto in campionato. Il Milan adesso è pronto per partire. Poi, se ci sarà la possibilità di rafforzarsi ancora, il Milan ci sarà, ma ci devono essere le possibilità tecniche ed economiche, gli intrecci giusti, gli incastri giusti di mercato. Seguiremo tutto giorno per giorno.